Ultimato il primo lotto dei lavori su lungomare che tanto hanno fatto discutere in passato. Ora sarà necessario predisporre il completamento dell'opera con la sistemazione del secondo tratto di costa, considerato ad alto rischio di frana. Il sopralluogo del tratto interessato dei lavori di consolidamento del versante a mare, tra l'eltro e il balaghe, è programmato per lunedì o martedì della prossima settimana ed è stato ordinato dall'assessorato ai lavori pubblici della regione alla presenza del responsabile del genio civile.